La Lega, come riportato da Claudio Borghi, sui suoi social non manca mai di prendere delle iniziative anti-europee, le ultime sono curiose, perché da un lato ha presentato un disegno di legge per garantire la prevalenza del diritto nazionale sul diritto europeo. L'unico problema è che tal disegno di legge verrebbe immediatamente bloccato dalla Corte Costituzionale in quanto incostituzionale, dal momento che è la nostra stessa Costituzione che ha una serie di articoli relativi alla nostra partecipazione europea rispetto alle relative norme, oltre al fatto che sono norme che derivano da dei trattati che l'Italia ha ratificato. Dopodiché la Lega ha, come dire, sempre in Parlamento, lanciato un'indagine conoscitiva relativamente alla prevalenza del diritto europeo sul diritto nazionale per capire come superarlo. Allora, a casa mia uno prima studia il dossier e poi agisce. Qui prima presentano un progetto di legge, dopodiché aprono un'indagine conoscitiva sull'argomento. Aversero fatto il contrario, l'indagine conoscitiva gli avrebbe detto che è perfettamente legittimo la prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale, nella misura in cui il diritto europeo è coerente con i trattati, cioè non viola le competenze che i trattati stessi mantengono di competenza nazionale e non europea. La cosa curiosa è che tutto questo, come spesso accade in Italia, avviene sull'onda emotiva di un qualche fatto che viene travisato. In questo caso, la decisione di un giudice bolognese di chiedere un'interpretazione alla Corte di Giustizia relativamente alle norme sugli stati sicuri per il rimpatto. Dimenticando che è un obbligo del giudice, quando deve decidere su un caso che mette in gioco delle norme europee o delle norme nazionali che potrebbero essere in contraddizione con delle norme europee, chiedere alla Corte di Giustizia europea quale norma deve applicare. Quindi, al di là degli elementi di costume sulle motivazioni adotte dal giudice, il riferimento alla Germania nazista, eccetera, ma sul fatto che il giudice abbia un obbligo di ricorrere alla Corte di Giustizia europea quando ha un dubbio sulla normativa da applicare tra quella europea e quella nazionale o se c'è un contrasto tra le due, il giudice ha semplicemente fatto il suo dovere. Ora, tutto questo ci mostra ancora una volta come l'ideologia nazionalista possa accecare e portare a delle iniziative che non hanno senso da un punto di vista logico, prima il disegno di legge e poi l'indagine conoscitiva, e dall'altro che sono frutto dell'emotività dell'onda di un evento specifico invece di essere ponderate frutto di un ragionamento sulla situazione reale.